Delle caratteristiche su come si manifesta l'Alzheimer, delle sue fasi, delle nuove acquisizioni cliniche, su come sostenere il paziente ma anche i suoi familiari, si è discusso nel corso del convegno intitolato La malattia dell'Alzheimer, capire il paziente e sostenere il caregiver, svoltosi al CEF Pass, un'iniziativa promossa dall'Associazione Familiari Alzheimer in collaborazione con il CEF Pass in occasione della 21esima giornata nazionale dell'Alzheimer. Ultimamente c'è un periodo di stallo per quanto riguarda la ricerca in questo settore però ci sono alcune finestre nuove e una di queste è rappresentata dalla comorbidità con l'epilessia della quale oggi parleremo tantissimo in questo convegno che ci offre nuove opportunità e dal punto di vista fisiopatologico quindi capire meglio i meccanismi che portano alla malattia e questo ci offre anche nuovi spunti per quanto riguarda le terapie. In un momento in cui la ricerca è ferma il potere utilizzare farmaci che già sono in commercio diventa molto importante non solo dal punto di vista curativo ma anche dal punto di vista dei costi che produce la malattia. Oggi le neuroimmagini hanno un ruolo molto importante nella diagnosi anche precoce di questa malattia soprattutto si fa riferimento alla risonanza magnetica dell'encefalo adesso con tecniche di volumetria per misurare delle piccole aree del cervello che si ammalano proprio in questa malattia e poi c'è un neuroimaging cioè l'immagine dell'encefalo immagine funzionale in questo ruolo importante sia la SPECT che la PET c'è due metodiche di medicina nucleare che ci dicono se i neuroni di quest'area cerebrale sono ancora funzionanti o no. Un'occasione per affrontare grazie alla testimonianza di alcuni familiari le fasi della malattia dal punto di vista del caregiver. Mia madre ha avuto l'Alzheimer diciamo in giovane età perché comunque ha iniziato con i sintomi all'incirca 64 anni quindi ho potuto vedere quello che è stato l'iter della malattia da quella che è la fase iniziale sino alla fase terminale con mio padre invece è stato diverso perché lui ha avuto un problema vascolare quindi di conseguenza con le ischemie si è andato a colpire quella che era la zona della memoria. Dal mio punto di vista in questo convegno parlerò appunto di quella che è la mia esperienza personale attraversando quelle che sono le tre fasi principali della malattia e quindi insomma darò il mio contributo in tal senso dando anche delle piccole soluzioni.